Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di TRM H24. In primo piano i temi legati alla sanità, poiché nelle scorse ore è stato raggiunto l'accordo sulla ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale alla Sanità pugliese. Quest'anno saranno assegnati 211 milioni di euro in più rispetto al 2022. Come dicevamo, è quanto stabilito dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni. L'accordo sulla ripartizione del fondo è stato raggiunto. Infatti ieri più risorse, ma ancora del tutto insufficienti, lo sottolinea l'assessore alla sanità Rocco Palese. Si tratta di risorse, ha spiegato l'assessore, che come più volte dichiarato anche dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, sono del tutto insufficienti per rispondere alle criticità del comparto sanitario. alla Puglia, ha sottolineato ancora Rocco Palese, sono assegnate risorse superiori allo scorso anno, ma c'è poco da rallegrarsi. Le dotazioni finanziarie restano assolutamente insufficienti per poter assicurare i livelli essenziali di assistenza ai cittadini e alle cittadine pugliesi. Cambiamo ora argomento. Ci occupiamo di economia, in particolare in riferimento al comparto del turismo. La Puglia è cara anche per i forestieri. Costi lievitati anche nelle località turistiche e balneari. In Salento, prezzi medi di 500 euro al giorno per una famiglia di 4 persone. Sentiamo. La Puglia ha sempre più meta di lusso, o almeno per turisti che non badano spese. Dal Gargano al Salento, infatti, le spiagge pugliesi registrano prezzi ben più alti rispetto alle altre località europee, gettonate in quest'estate, come la Grecia e l'Albania. Per soggiornare a Gallipoli servono mediamente 500 euro al giorno per 4 persone, considerando una giornata al mare, il passo al ristorante e una notte in un bed and breakfast. La denuncia è di Giulia Procino, presidente di Adoc Puglia e Bari. Appena più economico il Gargano, dove una famiglia di 4 persone riuscirebbe a soggiornare, anche con cifre che oscillano tra i 3 e i 400 euro al giorno. A Vieste, per esempio, si spendono dai 25 ai 40 euro per un ombrellone e due lettini, dai 95 ai 150 euro per una camera matrimoniale in un bed and breakfast e dai 30 ai 150 euro in un ristorante per il pranzo. Prezzi simili si ritrovano anche a Pulsano nel Tarantino, mentre leggermente più cara a Polignano a Mare nel Barese. Questi numeri, secondo Adoc, sarebbero pian piano allontanando i turisti dalla Puglia, almeno quelli il cui budget si ferma ben al di sotto di queste cifre. Al calo delle presenze turistiche dei forestieri si accompagna poi la difficoltà economica dovuta al caro prezzi che ha svuotato anche le tasche delle famiglie pugliesi. Prima il Covid, ha detto Procino, poi la crisi energetica, con il conseguente aumento dei prezzi di prima necessità. Hanno portato molte famiglie pugliesi a rinunciare alle vacanze o comunque a scegliere ammete più economiche anche a costo di andare all'estero. Si continua a discutere dello stop al reddito di cittadinanza. I comuni avranno difficoltà a garantire la tenuta delle comunità con risorse proprie. Lo ha sottolineato il sindaco di Barino, anche presidente del Lancio, Antonio De Caro. Dal prossimo anno vi ha anche le coperture per il sostegno affitti. Sentiamo. A poche ore dal messaggio che ha annunciato a molte famiglie lo stop all'erogazione del reddito di cittadinanza, si accusano le prime problematiche per i comuni, ai quali i cittadini si sono rivolti. I comuni non possono sostituirsi con risorse proprie, ha spiegato il sindaco di Bari e presidente nazionale del Lancio, Antonio De Caro. La presa in carico da parte del comune è infatti un progetto multidisciplinare che viene fatto su una platea di persone che non è attiva al lavoro e non ha nel nucleo familiare minori, disabili o over 60. Noi siamo preoccupati per il metodo ma anche per il contenuto di quel sms che erroneamente l'Inps ha trasmesso a una platea di nuclei familiari che interessa anche persone che non hanno nulla a che fare con la presa in carico del comune attraverso la piattaforma dell'Inps. Siamo preoccupati per quello che potrà accadere nei prossimi mesi perché a partire dal primo gennaio 2024 anche questa proroga che c'è stata con la presa in carico dei comuni da un lato e dall'altro lato con l'attivazione di un percorso di formazione a lavoro per altri nuclei familiari per quelli che sono definiti attivi terminerà. Dal primo gennaio 2024 si restringerà la platea degli aventi diritto e del reddito di cittadinanza e quindi abbiamo paura che poi quei nuclei familiari si rivolgeranno al comune che non ha risorse economiche attraverso i servizi sociali per garantire la tenuta della comunità. Sullo sfondo anche l'imminente problematica legata al bonus affitti la cui copertura a partire dall'anno prossimo non sarà garantita. La nuova legge di bilancio non ha previsto la riproposizione per gli affitti e per il contrasto alla morosità incolpevole. Sono risorse di cui non ci stiamo accorgendo oggi dall'assenza perché stiamo utilizzando quest'anno le risorse dell'anno scorso. L'anno prossimo non avremo la possibilità di fare i bandi comunali che facciamo in tutta Italia per sostenere gli affitti per aiutare le famiglie che in maniera incolpevole non stanno pagando l'affitto. Frode fiscale sui bonus edilizi. La Guardia di Finanza ha dato esecuzione nelle scorse ore a un'ordinanza di perquisizione e di sequestro per oltre 40 milioni di euro nei confronti di 5 persone e 6 società allocate tra Bari e Foggia. Sono indagate a vario titolo per emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, in debita o compensazione, riciclaggio ed autoriciclaggio. Le 5 persone che in capo a 6 diverse società sono state destinatari del sequestro preventivo d'urgenza di beni del valore di oltre 40 milioni di euro nelle province di Bari e di Foggia. I finanzieri del nucleo operativo metropolitano di Bari hanno infatti dato esecuzione a numerose perquisizioni all'interno delle aziende coinvolte con sede a Bari e Gioia del Colle su un mandato della Procura della Repubblica. Secondo quanto accertato dalle indagini, i soggetti avrebbero utilizzato in maniera indebita le misure agevolative previste per gli interventi edilizi disciplinati dal cosiddetto decreto rilancio. L'articolato meccanismo di frode scoperto riguarda in particolare la cessione del credito d'imposta in relazione ai bonus edilizi, circuito fraudolento che graviterebbe intorno alla figura di un commercialista barese, rappresentante legale di numerose società operanti nel settore edile, il quale avrebbe creato i presupposti per l'utilizzo presso l'Agenzia delle Entrate di crediti d'imposta di fatto inesistenti a fronte di lavori di ristrutturazione asseritamente effettuati ma privi di riscontro agli esiti delle indagini. Le prestazioni generatrici delle agevolazioni fiscali sarebbero risultate fittizie sulla base di alcuni indici di anomalia, tra i quali l'assenza di alcuna pratica edilizia istruita presso i riferimenti catastali indicati o in alcuni casi la difformità della licenza rispetto ai presunti lavori eseguiti e la mancanza di fatture di esecuzione dei lavori da parte del fornitore o dell'impresa esecutrice. Ottenuta la concessione dei crediti d'imposta fittizi da parte dell'Agenzia delle Entrate, questi venivano monetizzati direttamente dalle società rappresentate dall'indagato mediante cessione del credito alle società poste italiane S.P.A. ceduti a terzi soggetti. E' Lucia Di Biceglie, la nuova presidente della Camera di Commercio di Bari, eletta dal Consiglio all'unanimità. E' la prima donna al vertice dell'ente e subentra per il quinquennio 2022-2027 ad Alessandro Ambrosi, recentemente scomparso. Ruvese, dirigente di Comfcommercio BariBat, è stata consigliera della CDC di Bari e dal 2016 al 2019 nonché presidente del Comitato per l'imprenditoria femminile, attualmente presidente di terziario donna di Comfcommercio BariBat e vicepresidente di terziario donna Comfcommercio nazionale, direttore di Comservizi Bari. Alla nuova presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Biceglie, vanno i migliori auguri di un buon lavoro per l'incarico. L'esperienza e la competenza della dottoressa saranno garanzia di una interlocuzione feconda con le istituzioni e di un proficuo lavoro per il bene della nostra comunità. Queste le dichiarazioni del presidente della Regione Puglia. Michele Emiliano. Cambiamo ora argomento. L'Università degli Studi di Bari ha annunciato le novità previste per il prossimo anno. Saranno sei i nuovi corsi e la no tax area sarà fissata a 26.000 euro di ISEE. Investire per migliorare spazi e servizi. Queste le novità annunciate da Stefano Brunzini, rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldomoro. In questi anni registrato un incremento dei docenti in servizio, ma anche degli investimenti per didattica, tirocini, orientamento e servizio di counseling psicologico. Per il prossimo anno accademico, invece, confermate essenzioni e agevolazioni. No tax area per ISEE fino a 26.000 euro. Riduzione della contribuzione per i redditi sotto i 12.500 euro. Esonero dal pagamento della tassa regionale per chi si è diplomato con 100 e 100 lode. Agevolazioni per studentesse che scelgono le materie STEM per le studentesse madri. Sotto l'aspetto dell'offerta formativa, invece, saranno 134 in totale i corsi di studio. Tra questi, due nuovi corsi magistrali e quattro nuove lauree triennali. Sono nuovi corsi che noi abbiamo costruito insieme al tessuto produttivo del territorio. Per esempio, c'è quello sulla produzione, il controllo delle merci, quello sull'agri-food, ci sono quello sui, ovviamente, dei materiali industriali. Allora, abbiamo iniziato a interlocuire con le imprese e abbiamo compreso la direzione di dove loro vanno e di che figure hanno bisogno. Oggi, più che mai, c'è bisogno di figure trasversali ma che abbiano anche degli interessi convergenti in alcuni ambiti. In questo momento, il Paese ha bisogno di più persone che entrino nei percorsi formativi universitari. La modernizzazione di un Paese si fa aumentando la formazione delle risorse umane e noi ci crediamo molto e per questo ci apriamo ancora di più. Lo sforzo è notevole perché abbassare le tasse significa cercare soldi d'altra parte ma la nostra Università, con gli suoi 400 milioni di investimento nella ricerca, può permettersi questo lusso. Siamo ora allo sport, al ciclismo in particolare poiché sono stati presentati nelle scorse ore in una conferenza stampa che si è tenuta nel circuito del Mugello i mondiali di Glasgow 2023. Saranno i primi multi-event della storia del ciclismo. Dal 3 al 13 di agosto verranno assegnate le maglie iridate di tutte le discipline, comprese quelle del paraciclismo. La Puglia sarà presente con un ruolo da protagonista durante la conferenza stampa, infatti a cui ha partecipato anche da remoto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Sono state presentate le casacche della nazionale italiana su cui sarà stampato l'hashtag We are in Puglia. Le attività di brand per la Puglia che si realizzeranno attraverso Puglia Promozione con l'assessorato regionale al turismo comprenderanno anche la brandizzazione dei pullman e delle autoammiraglie della squadra nazionale FCI Categorie Elite Under 23, Juniors, Strada sia maschili che femminili della newsletter Federazione Nazionale Ciclismo dei backdrop per le interviste. Insomma, un momento davvero di alta promozione. Noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo per l'attenzione e a tutti una buona giornata.